buongiorno a tutti io sono l'ingegnere nicola furcolo di h software sono ancora una volta qui insieme a voi a parlare degli ultimi aggiornamenti relativi al super bonus 110 insieme a me c'è anche l'architetto chiara roberto salve a tutti bene oggi di cosa parleremo vedremo ancora una volta in maniera molto veloce casomai anche in maniera più veloce rispetto alle altre i criteri generali che regolamentano che disciplinano il super bonus vedremo quindi quali sono le regole di base e faremo un po il punto sulla questione normativa cercheremo di capire a che punto siamo e quali saranno i futuri sviluppi vi ricordo che questo è l'ultimo appuntamento in diretta prima dell'estate dopodiché abbiamo provveduto a riorganizzare un po i diversi incontri che abbiamo fatto daremo comunque la possibilità di rivedere i diversi incontri e tutti i vari approfondimenti in modo che possiate anche chi non è riuscito a seguire in diretta possa rivedere i diversi approfondimenti degli scorsi giorni vi ricordo rapidamente che abbiamo abbiamo pubblicato una specifica pagina una specifica sezione dedicata alle fac potete trovarla al seguente indirizzo al seguente indirizzo http due punti slash slash bim punto h punto it slash fac trattino super bonus e quello è l'indirizzo che vedete in sovrimpressione in questo momento in questa sezione potrete trovare una potete visualizzare tutta una serie di domande ci vengono fornite quotidianamente dai nostri lettori e vedrete anche le relative risposte potete effettuare una ricerca all'interno del campo di ricerca per vedere se esiste già qualche domanda simile alla vostra o eventualmente potete inviarci il vostro quesito premendo il bottone che si trova proprio al centro della pagina inoltre vi ricordo che potrete scaricare le slide che state vedendo all'indirizzo www.h.it slash slides quindi slides super bonus 110 chiederei la regia sì di scrivere eccolo ce l'abbiamo qui www.h.it slash slides trattino super bonus trattino 110 qui potete scaricare le slide che stiamo visualizzando in questo momento detto questo vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la chat e quindi chiederei a chiara come al solito di ricordarci come fare sì allora oltre quindi a scriverci tramite fac potete anche inviarci scriverci vostri dubbi durante tutto il corso di questa diretta utilizzando la chat per utilizzare la chat è molto semplice basterà cliccare l'icona della nuvoletta che trovate in alto a destra della schermata andare invece poi nella parte bassa della schermata registrarvi come guest quindi inserire il vostro nome il vostro cognome e poi ci digitate la domanda io proverò a rispondere per quanto possibile a tutte le vostre richieste va bene con questo è tutto e io ripasso la parola a nicola bene grazie chiara quindi fate le vostre domande a chiara cercheremo di dare una risposta alla fine eventualmente potete comunque scriverle nella pagina delle fac bene detto questo possiamo iniziare rapidamente a vedere le regole generali sul super bonus abbiamo oramai capito che si tratta di una detrazione fiscale del 110% relativa alle spese sostenute in uno specifico arco temporale quindi dal primo luglio del 2020 al 31 dicembre del 2021 spese relative a interventi importanti di riqualificazione energetica quindi efficientamento energetico e interventi antisismici abbiamo la possibilità di quindi usufruire di questo bonus e ripartire questo beneficio in 5 rate annuali costanti quindi nei successivi 5 anni di fatto è prevista la possibilità come vediamo qui il vero plus dell'agevolazione è oltre al fatto di avere una detrazione addirittura maggiore a quello che è l'importo speso il vero plus è quello di poter cedere il credito a l'impresa che effettua i lavori sotto forma di contributo che equivale a uno sconto in fattura oppure cedere il credito direttamente a istituti di credito banche poste agenzie finanziarie detto questo prima di iniziare ritengo sempre fondamentale ve lo ricordo lo ricordo ogni volta familiarizzare con le norme di riferimento e in particolare dobbiamo sempre ricordare che tutti gli aspetti legati alle questioni sugli interventi edili vengono disciplinati dal dpr 380 2001 quindi testo unico sull'edilizia che all'articolo 3 individua compiutamente i diversi interventi edilizi poi ricordiamoci della legge 296 del 2006 la legge la finanziaria del 2007 che introduce gli interventi di efficientamento energetico di edifici comma 344 al comma 347 ricordiamoci come al solito al solito del decreto legislativo 192 2005 che contiene tutte le definizioni di base e poi fornisce anche una serie di indicazioni sulla prestazione energetica e spesso il rimando è proprio a questo decreto legislativo ovviamente abbiamo la legge 10 tutta una serie di leggi la legge 10 10 come poi modificata fino ad arrivare come vedremo ai decreti del 26 giugno 2016 e 2015 che appunto definiscono le linee guida ape il decreto requisiti minimi e il decreto ministeriale relazione tecnica ricordiamoci il dl 63 2013 che è convertito poi dalla legge 90 2013 appunto che prevede tutta una serie di modifiche alle questioni energetiche quindi alle questioni sulla prestazione energetica in edilizia non dimentichiamo per la parte strutturale la le linee guida sul sulla classificazione rischio sismico quindi sisma bonus il dm mit 58 del 2017 del sobraio del 2017 non dimentichiamo inoltre il dpr 917 del 1986 che il testo unico delle imposte sui redditi che disciplina le detrazioni fiscali gli interventi soggetti quindi agevolati con detrazioni fiscale all'articolo 16 bis infine il decreto legge 34 2020 il famosissimo decreto rilancio e la sua legge di conversione 77 2020 che ha inserito un po di modifiche quelle che troverete di colore verde all'interno di queste slide sono proprio le modifiche introdotte dalla legge di conversione detto questo non mi soffermo più di tanto sui beneficiari abbiamo capito che in primis sono proprio i condomini poi abbiamo le persone fisiche quindi non le persone non le società non le persone che esercitano attività di impresa arti o professioni ma le persone fisiche quindi il contribuente fisico dopo chiariamo anche questi aspetti gli istituti autonomi case popolari le cooperative gli enti del terzo settore quindi le associazioni no profit non commerciali quindi onlus infine le associazioni dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche questi sono i beneficiari della detrazione un altro limite che ricordo sempre sulle sulle case su cui il singolo cittadino il singolo contribuente può usufruire dell'agevolazione su un massimo di due unità immobiliari dopo vedremo di cosa stiamo parlando vi ricordo rapidamente la gerarchia degli interventi non dimentichiamo che il super bonus è accessibile se e solo se si effettuano gli interventi trainanti che possono essere di tipo energetico di tipo antisismico per quelli di tipo energetico abbiamo la possibilità di effettuare l'isolamento termico di unità singole o unità abitative plurifamiliari poi abbiamo la possibilità di sostituire gli impianti delle in edifici plurifamiliari effettuando lavori su parti comuni realizzando impianti centralizzati stiamo parlando del comma 1b infine abbiamo la possibilità di sostituire gli impianti termici all'interno delle unità singole qualora faccia uno di questi tre interventi trainanti questo di colore arancione giallo o verde potremmo accedere ai benefici quindi agli stessi benefici benefici intesi come maggiore detrazione pari al 110% per gli interventi di eco bonus fotovoltaico eventualmente l'eventuale accumulo da eseguire insieme al fotovoltaico oppure le colonnine di ricarica detto questo per quanto riguarda invece il sisma bonus è prevista direttamente l'agevolazione per fotovoltaico e eventuale accumulo quindi di fatto non è prevista l'agevolazione per le colonnine di ricarica e l'eco bonus ricordiamo inoltre che il limite delle due unità immobiliari si applica agli interventi energetici quindi al C1A, C1B e C1C non si applica al sisma bonus i tetti di spesa rapidamente questa è la struttura quindi per così come l'abbiamo appena vista quindi tiene conto della gerarchia degli interventi i principali sono quelli che presentano l'indentazione a sinistra quindi C1 e C4 questi sono quelli abilitati eccoli i limiti di spesa vedremo che per il sisma bonus siamo sui pardon per il C1 gli interventi di riqualificazione energetica si va da 50.000 fino a 20.000 ora non mi soffermerò sui limiti rapidamente abbiamo per l'impianto fotovoltaico 48.000 con un limite di 2.400 euro a metro quadro e così via li troverete scritti nelle slide magari sorvolo su questa parte eccoli qui sono espressi univocamente i vari limiti vi ricordo solo che occorre fare la distinzione tra mini condominio e condominio grande condominio ecco condominio piccolo e condominio grande cosa vuol dire questo? vuol dire che i limiti di spesa per edifici plurifamiliari variano in funzione del numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio di fatto per edifici plurifamiliari fino a 8 unità immobiliari vale il limite dei 40.000 per l'intervento C1A quindi per l'isolamento dell'involucro 40.000 moltiplicato il numero quindi l'edificio complessivo avrà un importo massimo dei lavori pari a 40 per numero di unità immobiliari nel caso di 7 avremo 280.000 euro come tetto di spesa massimo nel caso di condominio grandi quindi con più di 8 unità immobiliari immaginiamo 10 il tetto massimo di spesa è fissato a 30.000 per il numero delle unità immobiliari quindi nel caso di 10 avrò 300.000 tetto di spesa questo è chiarito più volte ci chiedono questa questione ricordiamoci che è il tetto di spesa massimo per l'intero condominio per l'intero edificio plurifamiliare dopodiché le spese così come i benefici si ripartiranno tra gli aventi diritto quindi esisterà una tabella di ripartizione potrebbe essere la tabella millesimale con la quale andrò a ripartire la spesa e il beneficio maturato acquisito detto questo vi ricordo ancora una volta ne abbiamo parlato anche nelle volte scorse questa è una domanda molto frequente affinché un edificio possa essere considerato condominio non è necessario la costituzione questo è stato spiegato dalle entrate più volte nel corso del tempo e di fatto anche nel caso di super bonus valgono le stesse regole quindi le regole di prassi non è necessario avere la costituzione formale di un condominio ma è sufficiente la presenza di più unità immobiliari all'interno dello stesso edificio quindi l'edificio costituito da più unità immobiliari può considerarsi condominio un'altra piccola precisazione già chiarita dall'entrata in un quesito dei giorni scorsi e questo è un importante chiarimento in realtà lo era già stato fatto in passato per altre questioni l'agenzia aveva dato la sua interpretazione al riguardo nel caso di un edificio posseduto da un singolo proprietario con più unità immobiliari quindi immaginiamo un edificio sei unità immobiliari unico proprietario ci troviamo nelle condizioni di condominio è assimilabile questo edificio al condominio? ci avete fatto questa domanda più volte in linea di principio uno direbbe no perché il condominio è rappresentato da una moltitudine da una pluralità di proprietari quindi di condomini in realtà considerando che l'edificio è costituito da più unità immobiliari l'agenzia all'entrata ci ha chiarito che si può considerare quindi si può assimilare un'unità di questo tipo a un condominio quindi non si applica il limite delle due unità immobiliari o meglio non si applica per il condominio quindi per le parti comuni quindi immaginiamo di avere edificio di sei unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario il proprietario porrà effettuare gli interventi trainanti quindi isolamento termico il C1A o il C1B quindi isolamento termico dell'involucro oppure sostituzione degli impianti esistenti con un impianto centralizzato al servizio delle unità immobiliari con lavori su parti comuni ok in tal caso non esisterà il limite dei due quindi lo applicherà all'intero condominio per quanto riguarda invece poi i lavori trainati è chiaro che quindi ecco bonus stiamo parlando poi di sostituzioni infissi e così via in quel caso si applicherà il limite dei due vediamo se arriveranno ulteriori chiarimenti ma di fatto dovrebbe essere questa la linea applicativa in merito ribadisco questa domanda ci è stata fatta tante volte quindi colgo l'occasione per parlarne proprio adesso bene occorre rispettare i CAM lo abbiamo detto più volte ne abbiamo già parlato dei lavori su parti comuni per sostituire gli impianti stiamo parlando del comma 1b i limiti sono 20.000 e 15.000 se si tratta di condomini con meno di 8 unità immobiliari o più di 8 unità immobiliari quindi 20.000 per il numero di unità immobiliari ipotizziamo il caso di 7 7 per 2 140.000 e 15.000 oltre 8 unità immobiliari tutto scritto nelle slide quindi nulla di difficile nel caso di unità unifamiliare il limite è pari a 30.000 per la sostituzione del generatore ovviamente bisogna soddisfare i requisiti i requisiti è rispetto sicuramente del DM requisito minimi se ricordate in introduzione vi ho parlato delle leggi da conoscere assolutamente stiamo parlando del DM 26 giugno 2015 DM requisiti minimi lo dobbiamo soddisfare tutto quindi ce lo leggiamo magari se abbiamo software di calcolo Termos già effettua tutte le verifiche sul DM requisiti minimi ma ricordiamoci quello lo dobbiamo soddisfare tutto quindi ce lo leggiamo lo consultiamo poi dobbiamo garantire il miglioramento energetico di due classi nella situazione post intervento rispetto alla situazione ante intervento detto questo ne abbiamo già parlato più volte delle classi del superamento quindi del salto di classi immobili vincolati abbiamo già visto che qualora un immobile fosse vincolato da una norma o dal decreto legislativo 42 2004 quindi dal codice beni culturali e paesaggio oppure da un regolamento edilizio un regolamento urbanistico quindi se ci fosse un vincolo che impedisce la realizzazione degli interventi principali in facciata ad esempio isolamento della facciata o altri lavori è possibile accedere agli interventi secondari quindi ecobonus sostituzione infissi e building automation o quant'altro direttamente senza la necessità di effettuare gli interventi principali in tal caso per questi interventi il limite di detrazione sale a no il limite la percentuale di detrazione sale a 110% quindi abbiamo l'estensione agli immobili vincolati è espressamente previsto anche per interventi di demolizione e ricostruzione questo è stato inserito dalla legge di conversione del DL34 quindi alla legge 77 viene prevista espressamente la possibilità di demolire e ricostruire l'immobile per intervento di efficientamento energetico e questo è un chiarimento molto importante poi vedremo il perché benissimo sorvoliamo qui ne abbiamo parlato più volte sisma bonus possibilità di accedere al 110% per gli interventi antisismici quindi interventi di tipo locale interventi di tipo miglioramento sismico allora chiariamo subito anche questa è un'altra domanda qual è la differenza tra i diversi interventi antisismici bene interventi locali chi si occupa di strutture sa bene che sono le stesse norme tecniche per le costruzioni l'NTC 2018 che chiariscono che l'intervento locale è quell'intervento eseguito localmente che non modifica il comportamento strutturale dell'edificio quindi immaginiamo interventi locali puntuali dei rinforzi localizzati una piatta bando una cerchiatura nella muratura insomma interventi su un nodo interventi che non modificano il comportamento della struttura poi interventi di miglioramento sismico interventi che comportano un miglioramento sismico e questo va dimostrato con un calcolo della struttura interventi di adeguamento sismico che vuol dire adeguare l'edificio esistente a quelli che sono i criteri di sicurezza in vigore cioè di fatto raggiungere lo stesso livello di sicurezza dell'edificio esistente lo stesso livello di sicurezza che avrebbe l'edificio nuovo quindi ci rendiamo conto che quando parliamo di adeguamento gli interventi sono molto importanti e non semplici quindi ricapitolando intervento locale miglioramento adeguamento sismico dove posso effettuare questi interventi li posso effettuare in zona 1 zona 2 zona 3 qui c'è la mappa quindi quasi in tutta Italia eccezione fatta per la Sardegna la Puglia parte dell'Italia settentrionale anche qui questo è espressamente previsto sia dalla norma dalla legge dal DL 34 come convertito in legge 77 sia dalle bozze che stiamo analizzando in questi giorni del decreto Mise che sicuramente farà riferimento al decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 58 2017 quindi ricordatevi le linee guida sisma bonus vanno assolutamente eseguite le conosciamo bene sappiamo bene cosa prevedono ci definiscono le classi di rischio sismico dell'edificio un po' come quella che è la classificazione energetica che mi caratterizza il comportamento energetico di un edificio allo stesso modo la classe sismica mi specifica quella che è il comportamento il rischio sismico di una di una costruzione esistente quindi andremo a vedere il DM 58 2017 che ci disciplinarà le classi e dovremo garantire espressamente il salto di classe con gli interventi antisismici ma questo è tutto disciplinato dal decreto che ho citato e ricordatevi se utilizzate i DILUS e DILUS già effettua tutte le verifiche e di fatto rilascia anche le asseverazioni e le asseverazioni con i passaggi di classe di rischio sismico bene abbiamo parlato anche di questo abbiamo visto gli ulteriori incentivi qualora si ceda il credito a un'impresa assicuratrice e si effettui contestualmente una polizza che copre il rischio di danni la detrazione sale dal 19 al 90% poi lo vedrete ricordiamoci che vengono in ambito antisismico che vengono agevolati anche gli interventi di monitoraggio i sistemi di monitoraggio antisismico sempre che vengano realizzati insieme all'adozione di misure antisismiche questo è stato inserito anche questo dalla legge di conversione dalla camera fotovoltaico ne abbiamo parlato abbiamo detto che il limite di spesa è pari a 48.000 occorre considerare un tetto di spesa pari a 2400 per kilowatt installato inoltre è possibile anche procedere ad accumulo il sistema di accumulo potrà prevedere un limite di spesa di 1000 euro la kilowattore quindi per ogni kilowattore di accumulo di capacità il limite resta sempre fissato nei 48.000 questa è un'altra domanda che ci avete fatto i 48.000 sono per l'intervento complessivo ok che dovrebbe essere più che sufficiente per un impianto fotovoltaico ci sono delle restrizioni sulla cessione al GSE ma questo è specificato nella norma è indicato molto chiaramente nella norma fermiamoci qualche minuto sulla parte più interessante della questione vi ho detto il vero plus di questa agevolazione fiscale è la possibilità di cedere il credito cosa vuol dire il contribuente che voglia usufruire del beneficio super bonus ha tre possibilità sostanzialmente una usufruire direttamente del beneficio grazie alla sua capienza IRPEF cosa vuol dire vuol dire se il beneficiale se il contribuente ha capienza IRPEF quindi ha un reddito tale da maturare una IRPEF dovuta allo stato necessaria a contenere il 22% della detrazione quindi maggiore del 22% delle spese sostenute può pensare di sostenere direttamente l'intervento quindi di pagare immediatamente l'intervento al tempo t uguale 0 cioè oggi nell'arco temporale previsto dalla norma e di usufruire del beneficio fiscale ogni anno in compensazione IRPEF quindi non andrà a versare quel famoso 22% per 5 anni che gli consegna quindi fino ad arrivare al 110% della 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 spesa sborsata e sborsata quando parliamo di percentuali facciamo riferimento sempre alla spesa sostenuta ricordatelo quindi se parlo di 22% rispetto a quanto speso oggi recupererò 22% nei prossimi 5 anni e questo sembra abbastanza chiaro è evidente a tutti che è un investimento molto interessante molto remunerativo mi consente il 2% ogni anno rispetto a quello che investo inoltre ritroverò i lavori realizzati sul mio o sulla mia unità immobiliare molto bene qualora il contribuente non voglia o non possa è più probabile che non possa non ha la possibilità quindi non abbia capienza IRPEF quindi è incapiente o per qualsiasi altro motivo voglia cedere questo beneficio a terzi può pensare a due soluzioni numero uno lo sconto in fattura lo sconto in fattura non è null'altro che una cessione del credito alle imprese che forniscono i beni e servizi quindi all'impresa che realizza i lavori cede il credito sotto forma di contributo il contributo ricevuto è pari allo sconto è assimilabile quindi è rappresentabile con uno sconto che viene effettuato direttamente in fattura pari al massimo all'importo totale dei lavori quindi vuol dire che per un importo dovuto di 100.000 euro per lavori eseguiti sull'unità immobiliare di Tizio Tizio dovrà all'impresa Caio 100.000 potrà cedergli il credito ottenendo uno sconto in fattura pari a fino 100.000 euro che è l'importo totale dei lavori quindi di fatto potrà pagare potrà arrivare fino a un importo della fattura pari a zero ovviamente sarà un accordo tra le parti a definire l'entità dello sconto e conseguentemente l'importo della fattura e questo dovrebbe essere chiaro è un meccanismo abbastanza chiaro quindi contributo uguale sconto quindi cessione del credito uguale contributo uguale sconto in fattura dovrebbe essere chiarissimo passiamo alla seconda opportunità che ha il contribuente che non possa usufruire direttamente della derrazione può pensare di rivolgersi a terzi quindi a terzi soggetti tra cui anche le banche che sono espressamente previste le banche gli istituti di credito gli istituti finanziari in generale quindi il contribuente può pensare di accedere a questa nuova soluzione concordando direttamente con la banca le modalità di cessione quindi di sconto di questo credito cioè di fatto la banca acquisirà il credito del contribuente di tizio e gli darà una contropartita pari a un importo che terrà conto appunto del fatto che la cessione del credito che viene effettuata da tizio non è istantanea quindi di fatto tizio non cede alla banca un credito del 100% della spesa al tempo t uguale 0 ma cede il suo diritto al credito in 5 anni quindi ritorniamo ancora una volta al 22% al primo anno 22% al secondo al terzo quindi il credito viene maturato nei 5 anni e di fatto quindi la banca dovrà con un'operazione di sconto della matematica finanziaria andare a riportare al t uguale 0 quel valore che sarà quel credito che sarà maturato nei diversi anni lo dovrà scontare quindi applicerà uno sconto in modo tale da definire l'importo della cessione del credito benissimo quindi abbiamo visto le tre soluzioni e i due meccanismi di cessione questi dovrebbero essere oramai abbastanza chiari se ci sono dubbi se ci sono dubbi poi vedremo mica ci sono domande sulla cessione del credito questa questione dovrebbe essere abbastanza chiara qualche domanda ci sta sempre sulla cessione del credito magari si chiede spesso se anche gli incapienti possono avere la cessione del credito assolutamente possono procedere a cessione del credito assolutamente sì quindi non l'abbiamo detto prima qualora il beneficiario abbia capienza IRPEF e può pensare di sostenere la spesa probabilmente dico probabilmente poi sono scelte l'intervento più conveniente è proprio il primo quindi la soluzione qui che è mostrata al video quindi la soluzione di effettuare la spesa e di usufruire direttamente il beneficio probabilmente è proprio la più conveniente altrimenti per questioni di incapienza il credito va assolutamente ceduto questo è espressamente previsto dopo casomai vedremo anche qualche esempio specifico nella parte finale faremo qualche esempio qualche esempio sempre ci chiedono appena Letizia ci chiede cessione del credito come si paga l'impresa come si paga l'impresa allora come abbiamo detto se immagino di cedere il credito all'impresa mi accorderò con l'impresa sul controvalore del credito che gli sto cedendo cioè il controvalore sarebbe il contributo che l'impresa dà a me sotto forma di sconto quindi immaginiamo qual è l'importo dei lavori dammi un numero 100.000 euro 100.000 euro l'impresa potrà immaginare di scontare quindi avendo un facciamo dei numeri 100.000 importo lavori il contribuente Caio Letizia avrà acquisito quindi dopo aver ottemperato tutti gli adempimenti quindi tutto il titolo abilitativo tutto quello che è necessario fare nel momento in cui viene effettuato il lavoro quindi nel momento in cui viene versato al momento di sostenimento della spesa quindi al momento della fatturazione e di come dire al momento di pagare la fattura in quell'istante il contribuente acquisisce un beneficio beneficio che è pari al 110% della spesa sostenuta che in quel momento ancora una sostenuta allora cosa succede hai detto 100.000 il credito maturato da Letizia 110.000 Letizia si può accordare con l'impresa piuttosto di pagare questi 110.000 che non sono in possesso di Letizia e accordarsi su uno sconto l'impresa può immaginare di applicare uno sconto alla fattura pari al 10% al 90% della fattura stessa la norma ci dà solo il limite massimo che è il 100% non ci dà un minimo quindi la fattura pari a 100% potrà essere scontata da 0 a 100% 0 vuol dire che la pago tutta 100% di sconto vuol dire non pago nulla questo è chiaro infatti ci chiedono spesso se è fino al 100% quindi non può essere maggiore vuol dire che Letizia qualsiasi siano gli accordi che prende con l'impresa non potrà andare a credito dell'impresa quindi la fattura non può essere negativa questo vuol dire perché è previsto il beneficio del 110% ma la fattura al tempo t uguale a 0% non può essere negativa questo vuol dire che Letizia si accorderà con l'impresa da 0 al 100% immaginiamo do un numero 90% di sconto che è compatibile con il requisito normativo 90% di sconto vuol dire che Letizia deve all'impresa al tempo t uguale 0% quindi al momento dell'emissione della fattura Letizia è debitrice dell'impresa a seguito dello sconto di 10.000 euro e questo è chiaro cosa accade all'impresa questa potrebbe essere la domanda qualcuno ci chiede ma poi cosa accade all'impresa questa è una domanda più probabilmente rivolta all'impresa sì più che a tecnici l'impresa acquisisce questo sconto IRPEF quello è un credito che ha maturato Letizia come credito IRPEF lo acquisisce e per l'impresa si converte in un credito di imposta credito di imposta a sua volta l'impresa potrà cedere questo credito a terzi qualsiasi tipo di soggetti privati enti privati anche banche altre imprese quindi l'impresa X che ha effettuato i lavori a Letizia ha ricevuto 10.000 da Letizia ha ricevuto un importo un credito di 110.000 euro da ripartire in 5 anni quindi un credito di imposta potrà utilizzarlo direttamente in compensazione dell'imposta dovuta negli anni non nello stesso anno dovrà rispettare quelli che sono i tempi di maturazione del credito di Letizia 5 anni potrà cedere il credito di imposta ad ulteriori imprese quindi di fatto si sta creando chiamiamola così una moneta una valuta fiscale sì infatti uno scambio quel 110% che ha ottenuto l'impresa non è un 110% immediato sui valori è una valuta quindi è moneta possiamo pensare è l'equivalente a dei bot perché comunque sono garantiti dallo Stato che matureranno il 22% per ciascun anno ok questo dovrebbe essere il meccanismo è un investimento a tutti gli effetti e perciò parliamo di moneta fiscale di fatto si sta creando una moneta fiscale fiscale perché parte sempre ricordiamoci il presupposto è sempre il credito IRPEF parte sempre dal 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 credito quindi dal dal credito che matura il contribuente IRPEF quindi IRPEF il contribuente la persona fisica al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa matura questo credito e lo cede creando così una vera e propria moneta fiscale questo dovrebbe essere chiaro e a questo punto abbiamo anche fatto il caso della cessione del credito da banche perché la stessa impresa potrà rivolgersi alle banche interessante la possibilità a questo punto chiariamola magari non ne parleremo dopo la possibilità prevista proprio dal Parlamento perché nel DL quindi il governo non aveva pensato a questa questione di inserire i SAL perché questo perché per le imprese questa è una boccata d'ossigeno per le imprese cosa vuol dire questo che non devono necessariamente terminare i lavori per vedersi riconosciuto questo credito perché immaginiamo che Tizio non ha la possibilità economica di concludere di pagare direttamente vuole cederlo all'impresa ma se l'impresa dovrà ultimare i lavori quindi Tizio non vuole cedere alle banche avere una contropartita alle banche ma vuole ragionare con l'impresa Letizia a questo punto non dovrà l'impresa necessariamente terminare i lavori ma dovrà necessariamente terminare almeno il 30% dei lavori per potersi vedere concesso questo beneficio da parte di Letizia quindi un SAL di almeno il 30% potrà già cedere a stato avanzamento dei lavori il beneficio di almeno il 30% dell'importo totale da computo da progetto ok quindi da contratto ecco ok detto questo mi sembra che su questo veramente abbiamo detto tutto vabbè l'agenzia dell'entrata effettuerà tutti i controlli dovuti ricordiamoci una cosa trattandosi di una agevolazione di particolare di particolare vantaggio nei confronti del contribuente finale quindi della persona fisica è necessaria la posizione di un visto di conformità quindi il commercialista il consulente del lavoro il CAF il fiscalista dovrà verificare tutta la documentazione prodotta e accertare che sussistano i presupposti che danno il diritto a quel beneficio cioè che quel beneficio maturato sia reale esistono tutti i presupposti quindi di fatto bisognerà prevedere un visto di conformità senza visto di conformità il credito quindi il beneficio non viene concesso al contribuente è fondamentale il visto di conformità ne abbiamo parlato tante volte il visto di conformità di cosa dovrà tener conto di tutta una serie di questioni ricordiamoci che in questa storia sono tirati in ballo i tecnici i tecnici oltre al progetto oltre alle elezioni lavori oltre a tutti gli adempimenti già previsti quindi al titolo abilitativo al supporto al committente per tutta una serie di questioni dovranno assumersi una responsabilità grandissima fondamentale dovranno asseverare il rispetto dei requisiti se ricordate all'inizio abbiamo parlato abbiamo visto anche i riferimenti normativi dovranno assicurare il rispetto dei requisiti minimi da rispettare DM requisiti minimi DM 26 giugno del 2015 andiamolo a scaricare su Bplus c'è scarichiamolo e leggiamolo non è di difficile lettura sembra complicato ma non è difficile prevede tutti gli interventi e tutte le verifiche che occorre necessariamente fare ricordiamoci che il MISE il Ministero dello Sviluppo Economico ha già pubblicato una bozza ma ha già firmato come dichiarato dal Ministro l'altro ieri ha già firmato il decreto chiamato requisiti dove disciplina compiutamente tutti gli interventi le relative percentuali di relazioni gli importi ma soprattutto i requisiti che deve rispettare ciascun intervento quindi appena sarà disponibile questo decreto teniamo presente quello del 26 giugno 2015 non lo dimentichiamo lo scarichiamo ce lo leggiamo poi attendiamo il decreto del MISE che purtroppo ad ora non è ancora stato pubblicato abbiamo solo una bozza che casomai vedremo rapidamente ma non vi garantisco che oggi riusciamo a parlare del decreto che sarà pubblicato in gazzetta o sicuramente anche sul sito del ministero del MISE dovrebbe pubblicarlo direttamente lì il MISE questo disciplinerà tutti i requisiti da rispettare quindi il tecnico dovrà asseverare i requisiti dovrà asseverare o è necessario il salto di classe APE quindi una responsabilità fondamentale inoltre altre responsabilità in capo al tecnico dovrà seguire tutto l'iter dei lavori dovrà verificare la sussistenza dei requisiti l'esistenza di tutto ciò che è necessario dovrà anche oltre a inviare la documentazione all'Enea dovrà asseverare la congruità dei costi sostenuti la congruità dei prezzi cosa vuol dire? il tecnico dovrà fare delle analisi sempre per la questione che si va ad incentivare il 110% dei lavori eseguiti la prima cosa che ci verrebbe in mente ragioniamoci parliamoci francamente la prima cosa che verrebbe in mente a tutti è quella di far lievitare un pochino i prezzi normale perché? perché per la prima volta ribadisco ci troviamo di fronte a un'agevolazione che supera il costo sostenuto ma anche nel caso del 100% sarebbe la stessa cosa se fino a ieri quando ragionavamo su pensateci quando ragionavamo su detrazioni del 50 65 o qualsiasi altra cosa dove il committente deve comunque sostenere parte della spesa è chiaro che l'interesse di tutti è quello di contenere i costi ottenendo la migliore qualità possibile questo è chiaro è fuori di ogni dubbio il rischio quando si va ad incentivare l'intero volume di spesa quindi tutta la spesa l'intero importo della spesa il rischio è che i costi possano lievitare è proprio per questo che il DL rilancio già in fase di emanazione quindi quello del governo il decreto legge prevedeva già la congruità dei prezzi questa è stata ribadita era stato confermato dalla legge di conversione ed è stato ribadito più volte dal ministro Patonelli questa circostanza che è fondamentale in capo al tecnico lui ha affermato espressamente che bisogna avere fiducia dei tecnici fidiamoci dei tecnici che sapranno fare il proprio operato e dovranno in qualche modo attestare asseverare che il costo sostenuto per una lavorazione sia in linea con quelli che sono i prezzi medi regionali prezzari regionali delle singole regioni oppure qualora e questo l'ha detto lo stesso ministro qualora ci fossero problemi con i prezzari regionali perché lui stesso riconosce che alcune regioni hanno fatto un lavoro egregio e lo sappiamo anche noi in prezzari net di H ci sono i prezzari regionali di tutte le regioni li trovate anche in formato DCF potete usare Primus DCF gratuito aprite i prezzari e iniziate a dare uno sguardo lì ci sono i prezzari regionali alcuni sono ottimi qualcun altro come sottolinea il ministro ha qualche piccola carenza e allora si veniva a creare la necessità di individuare oltre ai prezzari regionali anche un altro strumento di verifica della congruità del prezzo e per questo il ministro stesso ha individuato il prezzario dei quindi prezzi informativi delle edilizie edito da dei tipografia del genio civile come uno strumento di confronto e verifica quindi i tecnici dovranno verificare ogni lavorazione il prezzo unitario per ogni lavorazione e qualora non questo è previsto già dal decreto del Mise attendiamo che sia pubblicato ma è previsto nelle bozze l'abbiamo trovato e l'ha confermato lui stesso nell'intervista quindi qualora non ci fossero i prezzi nei prezzari regionali bisognerà procedere ad analisi dei prezzi analisi dei prezzi tenendo conto dei prezzi regionali oppure delle tabelle l'allegato I non so se ha cambiato nome quella riportata alla fine della bozza che riportava dei costi parametrici sulla superficie delle finestre dell'isolamento delle caldaie in funzione dei kilowatt termici della potenza delle caldaie degli impianti termici e così via quindi ci sono dei prezzi parametrici riferiti al parametro principale che individua una lavorazione un impianto o una o una fornitura detto questo i tecnici hanno una responsabilità fondamentale dovranno asseverare questa questione chiara ci sono dubbi per caso sulle asseverazioni su su questa questione perché ribadisco è un obbligo in capo al tecnico che gli comporterà delle responsabilità grandissime tant'è che proprio a tutela del contribuente e a tutela del cessionario ricordiamoci dico questa cosa un attimo e vediamo qualche domanda ricordiamoci questo è interessante che questo l'ha già chiarito l'entrata cioè è già stato oggetto di qualche chiarimento qualora il credito ceduto dal contribuente tizio all'impresa caio cessionario o alla banca e ci fossero dichiarazioni mendace oppure ci dovesse sorgere qualche problema chiariamo subito che l'impresa tizio che ha acquisito in buona fede attenzione deve esserci la buona fede in buona fede il credito quindi non sapendo che ci fosse una dichiarazione mendace o un problema dietro alla pratica l'impresa non perderà il credito e questo è già fondamentale altrimenti si creerebbe un problema serio nella come dire nella nella responsabilità solidale sarebbe stato un problema quindi l'impresa non perde il credito il contribuente a seguito dei controlli dell'agenzia delle entrate di Enea che i controlli potranno essere non solo documentali ma anche in sito quindi controlli a campioni in loco con sovralluogo quindi attenzione a questo in questo caso qualora l'amministrazione finanziaria dovesse ravvedere problemi in una pratica sarà il contribuente a risponderne con la maggiorazione con gli interessi la sanzione di interessi tutto il resto ma di fatto il contribuente ha in mano una garanzia fondamentale che è quella dell'assicurazione il tecnico dovrà sottoscrivere un'assicurazione che lo copra dei danni civili quindi dall'eventuale danno economico che creerà con le sue asseverazioni che gli copra almeno 500.000 euro di massimale per 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 la prestazione eseguita quindi facciamo molta attenzione tutta questa cosa dovrebbe comunque garantire la tutta la cessione e quindi dovrebbe far star tranquillo il cessionario perché questa è importantissima questa cosa sempre che il tutto avvenga in buona fede quindi è utile questo chiarimento dimmi Chiara allora la maggior parte delle domande più che sull'asseverazione in sé sono proprio sulla polizza perché i tecnici non hanno capito se va bene la polizza che hanno allora ricordiamo che i tecnici i tecnici sono già tenuti esatto ad avere una polizza e questa mi sembra una domanda lecita però credo che trovi anche una risposta abbastanza chiara e semplice nel senso che noi dobbiamo fare i conti con ciò che stiamo facendo quindi se fino a ieri il ruolo del tecnico era fondamentale ma non aveva un ruolo centrale come ce l'ha oggi quindi è fondamentale questo passaggio se fino a ieri aveva un ruolo centrale ha sempre il ruolo centrale del tecnico ma non aveva tutte le responsabilità che ha oggi queste asseverazioni sulla congruità delle spese ieri non era prevista nelle altre nelle altre nelle altre di attrazione così come il salto di classe non è previsto ci sono una serie di adempimenti è vero c'è anche la pratica lenea ma le responsabilità sono espressamente individuate dal dl34 quindi ci sono delle responsabilità forti è chiaro che il contratto assicurativo che avevo potrebbe non comprendere queste anzi tiro di più sono convinto che i nuovi contratti assicurativi dovranno far espressamente riferimento a attività del tipo asseverazione della congruità delle spese sostenute efficacia della riduzione quindi asseverazione sull'efficacia della riduzione del rischio sismico rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti quindi di fatto immagino che si creeranno dei nuovi pacchetti assicurativi che andranno a tutelare il tecnico con i nuovi adempimenti perché dovrà essere proprio quella l'assicurazione quindi di fatto è in capo al tecnico ci sono in capo dei nuovi adempimenti ricordiamoci sono anche le multe le sanzioni amministrative da 2 a 15 mila euro per ciascuna dichiarazione resa ricordiamoci che sono anche poi le questioni penali qualora il fatto costituito scariato e lì non c'è assicurazione che tenga quindi di fatto credo che si creeranno dei nuovi pacchetti assicurativi e il tecnico è tenuto a fare questo che questo nuovo questa nuova stipula perché dovrà garantire tutto il sistema con quei massimali quindi a meno che le polizze che la polizze sottoscritta non comprendano qualcosa di questo tipo asseverazioni di questo tipo quindi è bene andare a leggere attentamente la propria polizza immagino che non siano previste queste prestazioni perché di fatto una polizza assicurativa deve specificare all'interno qual è l'oggetto della prestazione quali sono i rischi che copre e in questo caso la polizza assicurativa dovrà comprendere necessariamente le nuove prestazioni che non c'erano fino a ieri pensiamo alla congruità dei prezzi fino a ieri non se n'era mai parlato dovranno prevedere espressamente le prestazioni sulla congruità dei prezzi salte di classe e così via quindi di fatto immagino che sarà un nuovo prodotto assicurativo quindi sarebbe meglio discuterne col proprio assicuratore assolutamente è obbligatorio discutere immediatamente magari immagino che un tecnico che abbia già una copertura a 360 gradi abbastanza importante potrà rinnovare la polizza includendo l'ulteriore copertura sul prestazione super bonus 110 anni comprensiva magari con un importo magari non eccessivo rispetto all'assicurazione che già possiede quindi invito già tutti i tecnici a confrontarsi con le proprie compagnie di assicurazioni e a non dare per scontato la questione cioè pur avendo di fatto io ho assistito a un a un convegno dove partecipava proprio il CNI il presidente del CNI affermava chiaramente che i tecnici già hanno un'assicurazione sono già tenuti all'assicurazione e ok questo è chiaro è sacrosanto tuttavia credo che lo spirito della norma del legislatore quindi prima del governo decreto legge e del legislatore che ha convertito ha mantenuto la norma sia non tanto quello di dare quella garanzia ma di garantire ulteriormente con i nuovi adempimenti in capo al tecnico di garantire quella prestazione perché in caso di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria ne risponderà in primis il committente questo è fuori da ogni dubbio che dovrà restituire le somme indebitamente ricevute dallo Stato perché di fatto lo Stato è il garante ma di fatto il committente si rivarrà sull'assicurazione quindi è fondamentale rivolgersi al proprio istituto della propria agenzia di assicurazione altri dubbi ci sono sempre relativi alla polizza se va stipulata per qualsiasi professionista che viene incluso nel processo per esempio anche un geologo per esempio ci chiede se deve fare anche lui la polizza con lo stesso massimale no io credo che il massimale sia in capo a chi effettua l'asseverazione quindi se di fatto il geometra farà la direzione lavori piuttosto che l'ingegnere o l'architetto allora chiunque vada ad asseverare queste questioni si ricordi che deve tutelare questa questione il geologo che farà soltanto la relazione geologica per per esempio un sisma bonus per un sisma bonus qualcosa del genere è chiaro che dovrà avere la sua parte di responsabilità qualora quindi probabilmente credo che ci sia già un'assicurazione del geologo tuttavia credo che le responsabilità maggiori siano in capo al chi ha sé perché poi penso che un geologo potrebbe fruire della polizza che ha ah già la polizza nei casi chi si fa da garante per come la vedo io ma questo secondo me è lo spirito della norma chi si fa da garante nei confronti del allora il contribuente si fa da garante nei confronti dello Stato quindi pagherà l'eventuale cifra ottenuta indebitamente il garante del committente è l'asseveratore e quindi il garante dell'asseveratore è l'assicurazione quindi ricordiamoci sempre qual è lo scopo quando c'è qualcosa di non chiaro io mi chiedo qual è lo scopo per cui viene individuato qualcosa in questo caso credo che lo scopo sia proprio quello quindi fondamentale rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione va bene va bene sì penso di sì perché poi ci sta una discussione non so se sono d'accordo i nostri lettori più che altro fanno domande per esempio continuano a chiedere se per esempio anche il massimale deve essere relativo al valore dell'opera perché chiaramente indicano un minimo di 500 mila euro ricordiamoci potrebbe essere addirittura relativo non solo al valore dell'opera ma io direi della detrazione ricordiamoci che la detrazione in questo caso è maggiore della prestazione quindi facciamo attenzione alla è chiaro che la norma prevede quel 500 mila che dovrebbe essere adeguato a qualsiasi tipo di prestazione ma quello è il massimale minimo ricordiamoci che i massimali arrivano anche a milioni di euro è un po' come i massimali dell'assicurazione RCA per le autovetture che la norma prevede se non ricordo male un massimale di 6 milioni di euro poi dipende con le varie in funzione della contrattazione con le agenzie assicurative si andranno a individuare i massimali adeguati quindi è una scelta del contribuente ricordiamoci che il massimale è uno degli elementi costitutivi l'assicurazione ed è uno di quegli elementi che di fatto andrà a fare il prezzo della polizza quindi è uno degli elementi costitutivi che ne determina l'importo è chiaro che per avere una copertura io credo che sia legato anche al numero di interventi che il tecnico prevederà di fare al numero di interventi perché è chiaro che alla tipologia magari alla dimensione dei fabbricati quindi il minimo previsto dalla norma è proprio 500.000 ma non vuol dire che dovete fare un massimo di 500.000 potrete farlo certamente anche maggiore per tutelarvi da magari nel caso di lavori maggiori si può prevedere espressamente una variazione alla polizza un'integrazione alla polizza quindi questo è assolutamente possibile quindi va valutato caso per caso sicuramente deve tener conto di quello che può essere il danno che il tecnico fa a livello civile quindi la responsabilità civile che è legata al danno quindi al danno economico credo che ci siamo su questo casomai nella parte finale se avremo un po' di tempo vedremo qualche altra risposta quindi abbiamo visto che il tecnico gioca un ruolo fondamentale ha diversi adempimenti adempimenti in termini di asseverazioni di relazioni sulla congruità delle spese asseverazioni per la riduzione del rischio sismico per il salto di classe energetica e quindi di fatto dovrà anche compilare tutta una serie di documentazioni da trasmettere poi insieme al committente nella parte finale all'Enea sugli stati di avanzamento ne abbiamo già parlato sono previsti al massimo due sal dalla norma ciascun sal deve far riferimento ad almeno il 30% dell'importo l'abbiamo detto abbiamo fatto il caso l'esempio dell'impresa abbiamo già detto quali sono i limiti e soprattutto le sanzioni penali e l'eventuale sanzione pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro decreti attuativi non ci sono novità per il momento vero? non è ancora stato pubblicato nulla per ora non c'è arrivata nessuna novità sì non c'è il collega che di solito arriva si arriva di solito proprio nel mezzo della diretta a dirci che è stata pubblicata ogni tanto c'è anche qualche fake news ma di fatto oggi non c'è nulla non è arrivato nulla non è stata pubblicata ancora la la i decreti non sono ancora disponibili quindi di fatto abbiamo una bozza la bozza che abbiamo analizzato la settimana scorsa di fatto è questa quindi la troverete nelle slide che scaricherete questa come ho già detto altre volte la trovo davvero molto interessante questa tabella sinottica degli interventi perché sicuramente il MISI ha fatto un grande lavoro sono convinto perché ha riorganizzato razionalizzato tutti gli interventi edilizi disciplinando i limiti di spesa o la detrazione massima ammissibile in funzione dell'intervento la percentuale di detrazione ammessa ammissibile quindi la liquida di detrazione ammissibile per quell'intervento e gli anni in cui si divide la detrazione quindi credo sia un ottimo lavoro ha anche creato una nuova terminologia relativa all'articolo del decreto stesso non so se potrebbe variare il numero di articolo o la terminologia però mi sembra davvero molto interessante anche se a primo impatto sembra una complicazione delle cose vedrete che sarà utilissimo perché disciplina individua tutti gli elementi in maniera sintetica tutte le lavorazioni possibili e ne va a disciplinare i riferimenti normativi la detrazione massima ed è un ottimo lavoro fatto dal MISI che ha anche individuato per ogni tipo di intervento quali sono le asseverazioni e i requisiti da rispettare quindi quando prima parlavo di asseverazioni e requisiti abbiamo parlato anche di assicurazione professionale facciamo riferimento a questo decreto che sarà pubblicato dal MISI che definisce quindi ha fatto davvero un buon lavoro definisce per ogni intervento tutto ciò che devo fare proprio da tecnico molto bene dovrò attendere questo decreto attuativo sì qui abbiamo anche le diverse tipologie di intervento abbiamo anche alcuni limiti introdotti dal decreto ribadisco attendiamo che venga pubblicato mi spiace che non sia stato pubblicato oggi altrimenti lo avremmo analizzato insieme sembrerebbe stando al decreto ma anche alle dichiarazioni del ministro sembrerebbe che le spese tecniche questa è un'altra domanda che ci fanno tantissime volte le spese tecniche vadano calcolate mediante il decreto parametri decreto parametri quindi facciamo riferimento al decreto parametri bis del 2013 che poi è stato recepito dal ministero della giustizia il 17 giugno 2016 a seguito del codice appalti quindi parliamo del decreto parametri che definisce le modalità per il calcolo dei compensi su base su base parametrica quindi facendo utilizzo di tabelle e base parametrica quindi in particolare esistono i famosi quattro parametri li abbiamo detti più volte VG più volte VGQP questi vanno prodotti vanno moltiplicati tra loro e sommati quindi di fatto farò riferimento al costo della singola categoria dell'opera complessità della prestazione G specificità della prestazione P è il parametro legato al costo economico delle singorie categorie in definitiva esiste compenso sul software H che ci consente di calcolare il compenso dovuto questo si applica nei lavori pubblici quindi di fatto il ministro ha già affermato che si farà riferimento a questo e i valori massimi delle prestazioni professionali avranno anche loro o anch'esse un limite che sarà proprio quanto stabilito da questo decreto quindi 17 giugno 2016 ecco chiariamo un'altra cosa ci chiedono spesso i prezzi gli importi le prestazioni professionali hanno un limite possono essere agevolate allora le prestazioni le spese tecniche sono agevolate anche esse al 110% chiariamo subito che la stessa decreto legge quindi quello fatto dal governo così come convertito in parlamento prevedono espressamente la possibilità di usufruire delle detrazioni anche per quindi l'agevolazione delle spese tecniche per asseverazioni per prestazioni quindi per redazione dell'APE anche quelle per per il visto di conformità quindi le spese per il commercialista per i CAF per i consulenti al lavoro anche loro dovranno anche le loro spese saranno agevolabili e su questo ci siamo ora leggendo la bozza del decreto del MISE si parla più in generale che delle spese per la realizzazione dei lavori quindi di fatto vengono inglobate anche le oltre a asseverazioni APE e attestazioni di fatto anche quelle per la realizzazione dei lavori certamente spese tecniche sono la direzione lavori la progettazione e tutto il resto quindi di fatto fino a chiarimento fino a prova contraria tutte le spese tecniche sono agevolate come si calcolano? ebbene ce lo dice il ce lo dirà il decreto del MISE ma siamo sicuri che sarà il riferimento il DM 17 giugno 2016 quindi vi dovrete scontrare per forza di cose in tutte le attività che farete con il DM 17 giugno 2016 ricordiamoci che la bozza di decreto parla anche di una possibile alternativa cioè per calcolare il compenso delle prestazioni professionali si potrebbe fare riferimento al calcolo delle parcelle secondo quanto previsto dalla legge 143 del 49 maggiorando quindi il decreto parcelle maggiorando la legge sulle parcelle perdono maggiorandole del 30% questo è un'alternativa ma credo sia più verosimile il calcolo con il decreto 17 giugno abbiamo chiarito anche questo abbiamo visto gli otto adempimenti per il committente ricordatevi se vabbè gli otto sono scritti qui ne abbiamo parlato più volte ricordatevi il bonifico parlante qualcuno ci ha fatto ancora una domanda sul bonifico parlante non dovrebbe costituire un grosso problema sappiamo quali sono le regole codice fiscale di chi usufruisce del beneficiario della detrazione partita IVA del beneficiario del pagamento il modello da utilizzare è quello con la ritenuta fatta dalla posta o dalla banca quindi la ritenuta dell'8% nella causale si introduce il si inserisce il il riferimento normativo che da diritto alla relazione si potrebbe scrivere DL34 legge 77 ma immagino che appena ci sarà il 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 decreto MISE che da la nuova terminologia potremmo anche pensare di mettere proprio il decreto del MISE con la nuova terminologia quella che vi ho detto all'inizio vi ho fatto vedere in quella tabella quella che fa riferimento all'articolo 2 quindi si potrebbe pensare di razionalizzare il tutto mettendo per ogni pagamento un pagamento specifico che fa riferimento a una lavorazione quello specifico riferimento normativo che mi sembra il massimo anche perché univocamente è determinata anche la detrazione facendo riferimento a quella tabella del MISE quindi mi sembra molto utile detto questo abbiamo visto quali sono gli altri adempimenti trasmissione all'Enea asseverazioni bisognerà compilare ricordate l'allegato C e D non so se saranno questi nomi definitivi quindi di fatto dovremo compilare una scheda sulla prestazione energetica dell'edificio questa la recupereremo dall'Ape una scheda informativa dove andremo a dare tutti i dati qualitativi qualitativi e quantitativi relativi all'intervento si parla anche di Ape convenzionale l'Ape convenzionale ricordiamolo velocemente ne abbiamo parlato più volte ma al momento ancora non c'è il decreto definitivo per confermare questa questione comunque l'Ape convenzionale fa riferimento a tutto l'edificio ricordiamoci non è l'Ape da trasmettere alla regione per attestare la classe energetica dell'edificio non è un'Ape non è l'Ape normale è un'Ape convenzionale fa riferimento all'intero edificio costituito da più unità immobiliari è una sorta di Ape che tiene conto di una classificazione media cioè di fatto per calcolarlo andiamo a calcolare gli indici di prestazione energetica da cui poi si tira fuori il numeretto lo andiamo a mediare sulla superficie quindi facciamo una media pesata sulla superficie utile del fabbricato e tiriamo fuori una sorta di classe media dell'edificio quindi di fatto questa nuova classificazione ci consentirà di individuare il salto di classe quindi il salto delle due classi energetiche l'altra novità molto interessante prevista dal decreto è che non sarà necessario effettuare l'attestato di prestazione energetica classico ma potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del direttore dei lavori questa è un'altra questione da verificare perché ricordiamoci che l'APE a differenza dell'AQE non può essere rilasciato dal direttore dei lavori quindi questa sarebbe una novità assoluta i massimali di costo ne abbiamo parlato più volte queste tabelle fanno riferimento alla condizione in cui non sia necessaria l'asseverazione del tecnico oppure potrebbero essere utili per l'analisi dei prezzi fa riferimento a questa tabella sui massimali di costo ok qui abbiamo fatto qualche precisazione già ieri sui massimali di spesa ricordatevi ve lo ricordo se abbiamo definito la sempre per un intervento è definito il tetto di spesa quindi è la norma che ci definisce il tetto di spesa il tetto di spesa applichiamo la percentuale di detrazione e otteniamo come prodotto tetto spesa percentuale di detrazione la detrazione massima viceversa per alcuni interventi tipo quelli energetici la norma ci impone un massimale di detrazione e non di spesa in questi casi possiamo ricavare il tetto massimo dividendo la detrazione massima per la percentuale di detrazione ammessa e a quel punto otteniamo il tetto di spesa quindi quando nelle famose guide dell'agenzia delle entrate nei vari decreti troveremo fissati non i tetti di spesa ma i massimali di detrazione in quel caso ricordiamoci per avere la spesa massima ammissibile ricordiamoci che si dovrà scontrare con la congruità del tecnico ma la spesa massima ammissibile sarà pari alla detrazione diviso la percentuale di detrazione dovrebbe essere abbastanza facile quindi nel caso del 110 abbiamo che il tetto di spesa è inferiore alla detrazione ma questo è abbastanza chiaro e pacifico non mi sembra ci siano problemi ieri abbiamo parlato anche della cumulabilità con le altre detrazioni ricordiamoci che c'è già la guida delle entrate che chiarisce tutta una serie di questioni quindi con questo abbiamo terminato la parte iniziale dove abbiamo provato a ricapitolare un po' tutte le questioni sulla le questioni ad oggi vi ribadisco che siamo in attesa del nuovo decreto qualcosa potrebbe cambiare ci potrebbero essere delle novità ricordiamoci anzi che il decreto non è uno ma sono due i decreti attuati del mese uno prende il nome di decreto qualcuno lo chiama decreto prezzi qualcuno lo chiama decreto asseverazione di fatto disciplina asseverazione e prezzi no pardon requisiti resetto qualcuno lo chiama decreto requisiti qualcuno lo chiama decreto prezzi questo nuovo decreto primo decreto l'ho già stato firmato disciplinerà tutti i requisiti tecnici come abbiamo visto e i prezzi il secondo decreto farà riferimento proprio alle asseverazioni quindi andrà a disciplinare in qualche modo quelle che sono le asseverazioni in capo al tecnico rapidamente io avevo preparato una ecco visto che il decreto non è ancora disponibile chiara vogliamo vedere nel frattempo se sul sito del Mise c'è qualcosa c'è qualche novità magari intanto controllo allora si controlli un attimo io nel frattempo mostro velocemente cosa è accaduto l'altro ieri il il Mise ha pubblicato un decreto un comunicato stampa qui ho evidenziato le parti più importanti ne abbiamo già parlato ecco il decreto rilancio prevede l'emanazione di due decreti attuativi che sono di stretta competenza del Mise e in particolare decreto requisiti tecnici ne abbiamo parlato che definì è quella che la bozza che abbiamo visto la definizione requisiti che devono soddisfare gli interventi c'è un secondo decreto quando se ci ricordiamo il DL34 all'articolo sempre 119 nel comma 13 parlava della congruità dei prezzi ne abbiamo parlato più volte pardon sì della congruità dei prezzi sì mi sembra che sia sempre il comma non ricordo più sì il comma 13 ma poi si parla anche delle modalità di trasmissione all'Enea quindi di fatto il secondo decreto dovrebbe disciplinare le asseverazioni quello che io ho chiamato modulo asseverazioni e come queste saranno trasmesse dal tecnico all'Enea quindi asseverazioni contenenti tutte le le l'asseverazione alle verifiche i salti di classe quelli di cui abbiamo parlato poc'anzi dovranno essere trasmessi all'Enea e il secondo decreto disciplina come saranno inviate queste comunicazioni ecco il il ministro ha chiarito che il provvedimento definisce i requisiti tecnici li abbiamo visti per le diverse per i diversi interventi quindi non solo 110% ricordiamoci il DL 63 prevedeva l'emanazione di un decreto che disciplinasse tutta la questione relativa agli interventi edilizia agevolati quindi dopo ben sette anni il nuovo decreto andrà a rispondere a una previsione del DL 63 sette anni fa del 2013 ma anche del DL 34 2020 quindi di fatto sarà onnicomprensivo quello che abbiamo visto prevederà tutti gli interventi edilizi bene i massimali di costo l'abbiamo visto e le procedure di esecuzione e controlli a campione questo vuol dire che l'Enea provvederà a effettuare dei controlli sia documentali ma anche controlli in loco in situ poi i costi per tipologia l'abbiamo visto ne abbiamo parlato i tariffari ne abbiamo anche parlato prima la questione dei prezzari regionali per quanto riguarda invece il decreto asseverazioni l'abbiamo detto il ministro ha dichiarato che ci saranno due allegati che definiranno due modelli da compilare quindi il primo conterrà l'asseverazione con riferimento al caso in cui i lavori siano già conclusi quindi qualora non si vada a sal oppure il secondo sarà un modello relativo ai lavori che quindi un'asseverazione sui lavori che faranno riferimento a stati di avanzamento lavori quindi a sal quindi il ministro ha affermato che ci saranno questi modelli benissimo l'asseverazione può essere presentata non più di due volte per ogni intervento come abbiamo detto il numero di sal non può essere maggiore a due ed è comunque eseguita dopo il termine dei lavori benissimo queste erano le dichiarazioni del ministro Patuanelli le dichiarazioni del Mise rimaniamo in attesa di questa pubblicazione nulla? no ok Chiara ci conferma che al momento non c'è nulla non ci sono ancora i decreti non si trovano quindi non possiamo continuare su questi decreti direi come procede la chat come come vogliamo rispondere a qualche domanda sì possiamo rispondere a qualche domanda se ci sta il tempo allora allora Nicola ti inizio a chiedere posso accedere al super bonus con intervento trainante di coibentazione della copertura? coibentazione della copertura direi di sì teniamo presente che occorre rispettare i requisiti ricordiamoci che l'intervento C1A prevede l'isolamento dell'involucro nelle slide che avete alla fine ho fatto una precisazione proprio nelle ultime pagine ho fatto una precisazione su cosa vada ad intendersi per involucro eccola sta scritta qui potete scaricare questa slide l'involucro costituisce c'è tutto scritto non perdo tempo quindi l'isolamento deve fare riferimento all'involucro ma teniamo conto che questo isolamento dell'involucro deve costituire almeno il 25% non dell'involucro ma della superficie disperdente che ha un'altra definizione è tutto scritto qui è tutto chiarito ok vediamo un caso ricorrente l'edificio in questione è composto da due piani fuoriterra ognuno ospitante una unità immobiliare dotata di proprio impianto di riscaldamento i due piani hanno accesso autonomo da piazzale al piazzale si accede da strada comunale tramite cancello in questo caso le unità immobiliari possono rientrare nel super bonus singolarmente? questa è una questione allora di fatto leggendo la norma si dice il discorso lui fa riferimento alla questione di edifici unità unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che abbiano un accesso indipendente e abbiano autonomia funzionale è questo quindi il lettore ci sta chiedendo se all'interno di un condominio verticale o orizzontale che esso sia se c'è un'unità immobiliare che ha accesso autonomo quindi separato dal resto del condominio e ha un'autonomia funzionale ci sta dicendo che le caldaie ognuno ha la sua caldaia se può essere considerato un'abitazione non infamiliare provo a fornire la mia interpretazione di questa prescrizione quindi di questa precisazione normativa perché questo c'è scritto ricordiamolo è stata introdotta questa misura è stata introdotta nella conversione quindi dalla camera nella conversione quindi dalla legge 77 è stata introdotta questa misura prima non era prevista secondo me lo scopo del legislatore è quello di prevedere per come è scritta la possibilità di entrare di accedere ai locali quindi all'unità immobiliare direttamente senza passare per le parti comuni il fatto che abbiano una perché il problema è se c'è un cortile che rappresenta le parti comuni quindi è l'accesso da strada diretto o l'accesso tra un cortile io credo che non si è una mia interpretazione lo ribadisco è una mia interpretazione vedremo poi se ci saranno ulteriori chiaramente al riguardo ma non credo che la presenza di un cortile possa costituire un impedimento al fatto che questa unità immobiliare ha un accesso indipendente rispetto al condominio cioè di fatto io le interpreto come un accesso cioè i lavori dove li vado a fare non li vado a fare sull'aiuola o sul cortile sulle parti comuni la voi li vado a fare sull'edificio ricordiamoci la definizione di edificio del 192 l'ho scritta qui forse è scritta proprio qui eccola qui del 192 che fa riferimento al DM requisiti minimi è scritta qui quindi di fatto l'edificio ha accesso separato per l'abitazione A e per le rimanenti abitazioni B, C, D oppure per l'abitazione A B, C, D ed E questo vuol dire che le vilette schiera o hanno l'accesso diretto su strada o hanno l'accesso diretto quindi indipendente a partire da un parcheggio di pertinenza del condominio o da un cortile non credo questo possa essere una discriminante se lo fosse stata secondo me il legislatore l'avrebbe assolutamente ribadita quindi non posso immaginare che l'ingresso da una proprietà privata del condominio possa costituire una differenza rispetto all'accesso da strada pubblica quindi di fatto è una mia interpretazione lo ribadisco assolutamente sì perché ha un accesso privato cioè un accesso singolo non so se è chiaro questa me l'hanno chiesta più di una persona anche a me e ho fornito sempre la stessa risposta va benissimo ti faccio una domanda che vedo ora in chat Cesare chiede usufruire del 110% in un immobile da completare dove esistono tamponature esterne e tramezzature interne al grezzo è possibile? stronchiamo subito questa questione chiariamola scopo della norma non è quella di consentire il completamento degli edifici stop quindi è no e possiamo anche parlarne per lo scopo della norma gli elementi abilitanti gli elementi gli interventi trainanti sono sostituzione di un impianto esistente cioè si parla sempre di un volume già riscaldato di fatto devo andare a incrementare la prestazione termica di un qualcosa già esistente quindi direi mi sento dire assolutamente no perché non è possibile prevedere anche qualora voglia realizzare una muratura isolamento a cappotto di fatto il volume l'unità ancora non è accatastata quindi di fatto non è definibile come un edificio esistente e scopo della norma ma non solo del super bonus della norma che ha incentivato tutti i lavori è quella di riqualificare non di creare nuovi volumi quindi di fatto mi sentirei di escludere immediatamente questa tipologia di intervento dei lavori agevolabili quindi occorre avere un edificio esistente accatastato con la sua con tutta la con tutti gli impianti funzionanti quindi di fatto vado a migliorare la prestazione di un edificio esistente ok altra domanda sui compensi professionali che è sempre un argomento molto penso che l'abbiamo già trattato abbastanza sì una domanda al volo che ce la fanno sempre molto spesso i compensi dei tecnici sono compresi nei limiti consentiti e l'IVA e la Cassa Nazionale allora l'IVA segue la per quanto riguarda allora attendiamo il decreto prezzi così chiariremo il tutto che dovrebbe uscire oggi quindi non mi voglio sbilanciare è chiaro che l'IVA dipende dal dalla tipologia di dal tipo di partita IVA magari c'è il contribuente forfettario che applica o non applica dipende potrebbe esserci o potrebbe non essere dovuta magari c'è il contribuente dipende dipende dai casi quindi non non mi sbilancio su questa risposta richiederebbe un po' di tempo diciamo che vanno calcolati con il decreto 17 giugno i compensi quindi individuiamo le attività ci saranno dei valori massimi fino a prova contraria quindi finché non ci sarà previsto espressamente che le spese tecniche sono incluse nei lavori è chiaro che il tetto di spesa che abbiamo visto è per i lavori la prestazione tecnica ha il suo tetto di spesa già individuato probabilmente aspettiamo il decreto già individuato nel DM 17 giugno 2016 quindi compensi professionali i tetti di spesa dell'attività professionale vanno computati a parti questo mi sento di dirlo in maniera abbastanza tranquilla è chiaro se poi sarà previsto che le lavorazioni dovranno includere ma questo non c'è scritto in nessuna parte ora dovranno includere la questione dovranno includere anche la progettazione le spese tecniche questo non c'è scritto anzi c'è scritto espressamente che le spese tecniche vanno godono l'egevolazione quindi immagino che vadano a considerare dal pari degli interventi così come posso cumulare i massimali per gli interventi posso prevedere le spese tecniche a parte su questo mi sento abbastanza tranquillo però vediamo verifichiamo ribadisco nella bozza ci sono scritte tutta una serie di cose attendiamo il decreto definitivo e vi invito a scaricarlo perché ricordiamoci questo è l'ultimo intervento in diretta poi andremo in vacanza non so se riusciremo ad organizzare qualcosa per tre settimane saremo in vacanza non so se riusciremo a organizzare qualcosa nel corso del tempo vedremo insomma se sarà possibile organizzare qualcosa eventualmente faremo un mailing ci organizzeremo per vedere in diretta tutto quello che è accaduto altrimenti tenete presente che dovrete scaricarvi il decreto del MISE leggerete lì sopra anche quali saranno i compensi professionali saranno chiariti leggiamolo attentamente Nicola poi ci chiedono dei chiarimenti relativi alla ristrutturazione con aumento di volume quindi se puoi fare questo chiarimento allora per questa cosa già ne abbiamo parlato ieri a ristrutturazione quindi stiamo parlando di demolizione e ricostruzione esatto allora effettivamente ragionavamo prima sulla questione che il decreto semplificazione introduce una nuova definizione di ristrutturazione di ristrutturazione edilizia in particolare il decreto semplificazioni prevede vi mostro Biblus se possiamo vedere il mio schermo ecco su Biblus c'è un approfondimento sul decreto semplificazioni in particolare potete andare qui a scaricarlo vado a memoria il decreto semplificazioni dà una nuova definizione di demolizione e ricostruzione che include a differenza della quindi modifica il DPR 380 deve essere ancora convertito in legge il decreto semplificazioni quindi è un decreto legge per il momento prevede la possibilità di demolire e ricostruire senza il vincolo che avevamo fino a ieri sulla sagoma sulla volumetria quindi consente quindi Nicola ti posso leggere la definizione che ce l'ha portata di mano si non so se abbiamo il tempo per questo io volevo chiarire un'altra domanda importante sto leggendo sui compensi professionali su pardon questo è interessante vorrei spendere lì due minuti su questo sul regime forfettario che riguarda secondo me la maggior parte dei professionisti rapidamente qui chiudo velocemente vediamo la definizione del decreto semplificazioni è ancora un decreto legge quindi dovrà essere convertito in legge atteniamo anche le entrate cosa diranno sull'aumento volumetrico per quanto mi riguarda la mia interpretazione l'ho già detta ieri se l'aumento volumetrico in termini di volume quindi unità abitativa secondo me non è da incentivare perché lo scopo è sempre quella di incentivare con demolizione e ricostruzione ma incentivare l'esistente tuttavia il decreto semplificazioni da come sta dicendo Chiara prevede anche la possibilità di aumentare il volume qualora consentito da norme urbanistiche e qualora rientri in piani di specifici piani di di rigenerazione urbana ok in questi casi è previsto l'aumento di volume rimanendo attenzione nell'ambito della ristrutturazione cioè vuol dire demolizione ricostruzione con incremento volumetrico questa cosa fino a ieri non era possibile vediamo quali saranno le interpretazioni al riguardo per quanto mi riguardi io mi sento di dire che l'incremento volumetrico non dovrebbe essere un non dovrebbe essere incentivato però se ricate in quelle condizioni e stando alla definizione attuale del DPR 380 ribadisco siamo in attesa di conversione potrebbero cambiare le cose ma di fatto potrebbe prevedere anche l'aumento volumetrico vedremo come andrà su questo non possiamo dare una risposta certa una risposta certa possiamo darla qui ci chiedono in tanti cosa accade per il super bonus 110 nel caso in cui il beneficiario sia il beneficiario sia un forfettario ecco cosa accade guardiamo se è possibile direttamente qui su Biblus abbiamo pubblicato proprio qualche giorno fa questo lo trovo molto interessante un approfondimento ecco con un chiarimento delle entrate in particolare si chiede all'entrata il quesito è un contribuente chiede se sia possibile usufruire dell'aderazione 110 anche se rientra nel regime forfettario e per interventi minori correlati all'intervento vabbè lasciamo la questione dell'intervento non ci interessa a noi ci interessa cosa accade se il regime forfettario se l'utente quindi il se il contribuente al regime forfettario vuole accedere cosa vuol dire il regime forfettario vuol dire che di fatto non matura IRPEF quindi di fatto lui versa un'imposta sostitutiva e quindi di fatto non potrebbe avere l'IRPEF per usufruire del beneficio fiscale l'istante fa presente che nel 2020 nell'edificio in condominio di cui fa parte avrebbero effettuati dei lavori e chiede al fisco questa questione ed ecco molto interessante la risposta del fisco questa magari applicabile a molti di voi ma secondo me è anche abbastanza chiara il credito l'abbiamo detto può essere ceduto da tutti i condomini teoricamente beneficiari della dirazione IVI prevista anche se non sono tenuti al versamento dell'imposta quindi ritorniamo nel caso su cui abbiamo ragionato in apertura all'inizio dove abbiamo detto espressamente che se il contribuente non ha capienza quindi è incapiente a livello di IRPEF oppure non arriva magari non ce l'ha a sufficienza può pensare di cedere la dirazione quindi questa è una domanda interessante se il beneficiario nell'ambito di un condominio è sì una persona fisica ma non ha IRPEF perché perché è un professionista in regime forfettario allora l'agenzia ci chiarisce nessun problema puoi cedere tranquillamente il tuo beneficio a terzi quindi potrai cederlo all'impresa potrai cederlo a istituti di credito quindi su questo nessun problema direi che è abbastanza chiara la cosa vi rimando su Biblus questo è un articolo che sta nella home di Biblus potrete leggerlo e potrete scaricare anche direttamente la FAQ delle agenzie delle entrate vi ricordo ancora una volta stesso qui visto che stiamo vedendo la nostra pagina ne approfitto per dirvi che in questa pagina quindi bim.h.it slash FAQ super bonus accessibile da Biblus BIM quindi dalla home di Biblus è qui c'è questo bottoncino che vi consente di andare direttamente a questa pagina qui potete innanzitutto ricercare la vostra domanda per vedere se è già presente nell'archivio qualora non lo fosse fate una ricerca scriverete non so ecco bonus darete invio e lui vi fornirà tutte quelle dove si parla di ecco bonus ecco bonus quindi lui vi fornirà una risposta vi fornirà tutte quelle che soddisfano questi criteri oppure in alternativa se non troverete lui già ce ne propone alcune se non le troverete potrete cliccare su questo bottone e accedere a questa pagina specifica per formulare il vostro quesito qui inserirete un titolo qui andrete ad inserire il corpo del testo quindi la domanda con la possibilità anche di formattarla infine dovrete scegliere una categoria della vostra domanda questa servirà per etichettarle per avere una classificazione delle domande è necessario inserire anche l'email e il nome ricordatevi come specificato qui sotto il nome non comparirà quindi state tranquilli per problemi di privacy non comparirà servirà a noi qualora ci fossero novità su qualcosa a comunicarvi quindi per avere una traccia noi della domanda che avete fatto ma di fatto non comparirà quando andrete qui quindi potrete qui c'è il link che vi riporta nella pagina delle FAQ potrete trovare non necessariamente dipende la risposta alle vostre domande direttamente in questa pagina sulle FAQ detto questo Chiara come procediamo? non so se abbiamo altro tempo per le domande ok ci dicono dalla regia adesso che abbiamo il video su Solarius questo vuol dire che adesso vedremo come si progetta un impianto fotovoltaico e qual è il beneficio ricordiamoci l'impianto fotovoltaico è un intervento secondario quindi trainato che viene abilitato dall'esecuzione di lavori di efficientamento energetico o efficientamento sismico quindi vi lascio in compagnia di Roberto un video registrato che Roberto vi mostrerà come si procede alla progettazione e esecuzione di un impianto fotovoltaico con questo io vi saluto e vi do un eventuale appuntamento non so se nel corso dell'estate delle vacanze se ci fossero novità altrimenti ci rivedremo al rientro ciao a tutti dalla redazione di Bibliosnet ciao stiamo quindi con il programma Solarius e come adesso avendo quindi diciamo analizzato il discorso energetico quindi siamo nella situazione in cui il salto di classe c'è andando a mettere le pompe di calore andiamo a vedere come progettare l'impianto fotovoltaico bene qui abbiamo il classico programma dove ovviamente bisogna individuare primariamente la località in cui andare a realizzare l'impianto studiare diciamo qual è l'ombreggiamento in lontananza del sito in cui si va ad effettuare l'installazione dell'impianto anche perché l'obiettivo deve essere quello di conoscere quando più verosimilmente possibile quella che è l'energia che quell'impianto ci produrrà perché da quell'energia salterà fuori poi il discorso diciamo dello studio dell'accumulo e della convenienza effettiva dell'impianto stesso quindi questo meccanismo di analisi dei rendimenti e di studio del raggiamento solare sicuramente torna comodo per avere poi un dato più preciso nel caso di specie a questo punto si parte con la progettazione dell'impianto fotovoltaico vero e proprio che lavorando nel mondo BIM e avendo fatto magari il calcolo energetico proprio con termos BIM posso sfruttare per esempio il file IFSI prodotto con termos BIM per incominciare a ragionare direttamente sulle superfici in 3D già che mi vengono proposte dal modello BIM sulle quali quindi andare a individuare la superficie da destinare al campo fotovoltaico quindi per il posizionamento dei nostri moduli quindi vedete con questo editor vado a dichiarare quale deve essere la mia superficie da occupare e su di essa quindi con un wizard se vogliamo molto intuitivo dove devo semplicemente scegliere la potenza dell'impianto che vogliamo ottenere per esempio una potenza di 6 kilowatt e quindi andiamo ad imputare e a calcolare il numero di moduli che ci devono servire per avere quel tipo di potenza di 6 kilowatt di una determinata marca poi l'archivio come ben sapete è vasto e lui ci effettua il posizionamento dei moduli quindi stiamo già progettando il nostro impianto fotovoltaico immaginando una soluzione definitiva se vogliamo anche da un punto di vista poi installativo e dobbiamo completare il progetto del campo fotovoltaico quindi per arrivare poi ad avere i risultati finali con la configurazione dell'inverter quindi del nostro generatore ma anche qui banalmente andiamo a selezionare qual è il campo fotovoltaico da collegare all'inverter e dai nostri archivi andare come al solito a rilevare l'inverter da utilizzare quindi in questo modo creeremo il legame logico tra inverter e moduli quindi ciascun modulo sarà appositamente etichettato per poter essere poi individuato esatto diciamo quindi dall'analisi poi impianta oppure sugli elaborati che si vanno a produrre e una documentazione tecnica da produrre è anche lo schema unifilare se vogliamo dell'impianto fotovoltaico ebbene quindi con pochi passaggi quindi andando ad inserire e a configurare anche gli schemi unifilare dei singoli quadri possiamo ottenere anche l'elaborazione se vogliamo in automatico dello schema unifilare che è un documento tecnico da legare alla pratica che si andrà poi a realizzare quindi vedete l'obiettivo è sì quello di progettare ma è anche quello di produrre la documentazione necessaria per ovviamente poi presentare il tutto agli enti preposti ecco quindi qui abbiamo i nostri quadri che sono degli oggetti 3D che possiamo quindi andare poi anche ad interrogare andando avanti quindi possiamo adesso far vedere quello che è lo schema unifilare generato eccolo qui quindi automaticamente il programma adesso ci rende disponibile questo documento che come potete ben vedere già è stato realizzato lo si può esportare stampare o fare altre tipologie di considerazione ma oltre all'allegato elettrico se vogliamo possiamo produrre con l'ambiente BIM anche gli elaborati diciamo prospetti piante planimetrie sezioni attraverso semplicemente l'inserimento sulla planimetria sul livello planimetria dei simboli degli oggetti se vogliamo che mi vanno a generare automaticamente gli elaborati eccola qui la planimetria generata automaticamente le piante le sezioni eventuali prospetti documenti singoli che possiamo poi assembrare in un'unica tavola esecutiva che andremo quindi poi a produrre come elaborato di progetto quindi qui semplicemente con delle operazioni di drag and drop degli elaborati delle tavole grafiche prodotte possiamo come dire comporre il nostro elaborato grafico che diventa un ulteriore elaborato tecnico da allegare alla pratica diciamo quindi al progetto dell'impianto fotovoltaico quindi stiamo analizzando l'aspetto progettuale per poi addentrarci nell'aspetto economico che è quello molto anche interessante per quanto riguarda le scelte da fare sulla progettazione sull'installazione dell'impianto fotovoltaico abbiamo quindi realizzato anche gli elaborati di progetto che come al solito si possano stampare oppure esportare in formati immagine o pdf e quant'altro ma la cosa importante è che Solarius Beam ci dà la possibilità anche di esportare se vogliamo usare questo termine il progetto dell'impianto stesso in un file ifc quindi se facciamo parte di un team di lavoro e utilizziamo per esempio la piattaforma Ice Beam Platform per lo scambio dei modelli dei modelli beam ecco possiamo in questo caso andare a esportare il modello beam della sola parte fotovoltaica per poterla rendere disponibile magari al progettista al collega progettista dell'impianto elettrico per completare come dire la modellazione anche della parte elettrica quindi nell'aspetto sempre nell'aspetto beam quindi qui abbiamo i meccanismi per effettuare importazione ed esportazione per il formato IFC quindi definite anche queste ulteriori funzionalità abbiamo terminato se vogliamo ciò che può riguardare la progettazione diciamo dell'impianto per iniziare poi a ragionare invece sul lato di che cosa viene fuori adesso da questo progetto ebbene questo progetto ci ha generato un prospetto di energia prodotta quindi adesso noi conosciamo quant'è l'energiamento di quella zona conosciamo qual è praticamente l'energia che viene prodotta da quell'impianto con quei moduli e con quell'invertero e quindi qui abbiamo lo schema unifilare che abbiamo visto prima possiamo iniziare a fare dei ragionamenti di carattere economico il primo ragionamento da fare è quanto ci costa questo impianto ebbene per fare la valutazione del costo dell'impianto all'interno di Solarius andiamo prima a definire alcuni aspetti di carattere generale abbiamo detto che non è possibile prevedere lo scambio sul posto per il decreto 110 quindi praticamente lo dobbiamo togliere dal calcolo economico in modo tale da fare una stima realistica rispetto alle condizioni che il super bonus ci mette a disposizione quindi sicuramente andiamo a togliere lo scambio sul posto e andiamo a definire come vi stavo dicendo quello che è il costo dell'impianto bene per definire il costo dell'impianto all'interno dicevo del programma c'è il programma Primus di CF con il quale il programma già ci restituisce tutte le entità se vogliamo con le relative quantità che abbiamo previsto all'interno di quel progetto dell'impianto realizzato a noi non rimane altro da fare che andare a specificare per quelle singole voci il prezzo unitario quindi qui adesso ognuno opera a seconda delle esigenze magari mi viene messo a disposizione un listino oppure un apposito preziario per fare la valutazione di questi impianti ebbene prendo lo stesso preziario con il Primus di CF che comunque voi troverete installato sulla macchina potete sostituire ecco con queste operazioni di drag and drop sostituisci sostituire le singole voci dell'elenco prezzi senza alterare il contenuto del computo ma semplicemente cambiando la voce dell'elenco prezzi con la quale computare una determinata lavorazione una determinata voce quindi con questa operazione di drag and drop mi vado a personalizzare se vogliamo il computo medico sulla base di un mio preziario che ho disponibile per fare queste valutazioni oppure manualmente posso venire qui nelle voci dell'elenco prezzi e personalizzare i singoli costi unitari prezzi unitari delle varie voci per avere ecco alla fine già una stima un costo se vogliamo di base di partenza che in questo caso 8.480 euro più o meno al quale aggiungere eventualmente poi spese tecniche che comunque ricordiamo vengono ad essere incentivate anche esse quindi anche le spese tecniche rientrano nel super bonus quindi le possiamo considerare ulteriori costi una tantum e ulteriori costi periodici la cosa fondamentale per fare un calcolo diciamo attendibile è poi specificare più o meno quelli che sono i consumi della unità immobiliare ebbene se già avevamo un'idea di quello che era il profilo di consumo dell'unità immobiliare a quei consumi dobbiamo adesso aggiungere anche quelli che vengono fuori da cosa dalla pompa di calore che si va ad installare quindi la pompa di calore ovviamente assorbirà una certa energia elettrica quindi dove prenderemo questi consumi i consumi della pompa di calore potranno essere presi per esempio dal calcolo energetico fatto con termosi quindi andando ad analizzare i risultati lì avremo anche il consumo di combustibile elettrico della pompa di calore bene questo adesso è il profilo dei consumi notiamo anche che qui abbiamo un bel po' di energia etero consumata che è quella rossa che avete visto in quel grafico il che ci spinge anche a fare un'altra considerazione se abbiamo ancora energia etero consumata allora e non possiamo aumentare la potenza dell'impianto anche per carattere per questione di budget eccetera possiamo pensare a un accumulo ebbene il programma solare come vedete ci dà la possibilità di progettare anche i sistemi di accumulo e di batterie avendo sempre a disposizione un catalogo di batterie e accumulatori quindi andare a fare un dimensionamento in base anche alla percentuale di scarica delle batterie andare a fare un dimensionamento e quindi ottenere un profilo di copertura dei consumi magari che beneficia di questo accumulo infatti se andiamo adesso ad analizzare di nuovo i consumi considerando la presenza anche dell'energia accumulata quindi in fase di produzione otteniamo quella parte verde che è l'energia che viene sfruttata grazie alla presenza dell'accumulo quindi come potete vedere d'estate non ci sarà mai energia etero consumata qualcosina ce l'abbiamo nella fase invernale andiamo avanti quindi abbiamo detto parlato del costo al quale ovviamente dovremo aggiungere adesso anche il costo dell'accumulo perché avendo previsto l'accumulo dobbiamo anche incidere adesso inciderà anche notevolmente sul costo ebbene direttamente nelle voci di misurazione possiamo aggiungere ecco qui il computo lo potete comunque sempre personalizzare come ben sapete aggiungendo altre voci liberamente oppure rifare di nuovo la computazione da capo ma questo richiederebbe di nuovo la sostituzione delle voci di elenco prezzi quindi preferisco a questo livello aggiungere praticamente l'accumulo e definirne il costo magari a corpo dello stesso quindi in questo caso ho previsto 3.000 euro poi sarà il caso reale a definire numeri precisi e quindi abbiamo raggiunto una quota di circa 12.600 euro di costo andiamo avanti e per fare lo studio di convenienza economica bisogna inquadrare anche il soggetto da un punto di vista fiscale quindi qui abbiamo la circolare 46 dell'agenzia delle entrate con i vari soggetti e quindi quali sono le condizioni di applicazione poi delle imposte eccetera e la nuova pagina che troverete con Solarius Superbonus 110 eccola qui dove si andranno a specificare le condizioni di incentivazione quindi come vi dicevo il fotovoltaico non è diciamo nuovo da incentivi già abbiamo alcuni incentivi vedete il degrado fiscale ad adesione fiscale al 36% al 50% quindi in ultimo l'ultimo incentivo è il 110% ovviamente dove cosa cambia cambiano le condizioni di accesso ai vari sistemi di incentivazione quindi scegliendo la detrazione fiscale al 110% la prima cosa che ci chiede il programma è di definire se quell'impianto fotovoltaico ricade in un intervento di nuova costruzione oppure diciamo di una leggera ristrutturazione come vi dicevo nella fase introduttiva se è nuova costruzione o ristrutturazione importante praticamente l'agevolazione è massimo di 1600 euro per kilowatt di picco quindi praticamente si abbasserà la soglia ammissibile di spesa per questo tipo di intervento se invece come ipotizzeremo adesso l'intervento di sostituzione del generatore non riguarda né una nuova costruzione né una consistente ristrutturazione ma una riqualificazione energetica allora abbiamo la possibilità di sfruttare un massimo di incentivazione che riesce a coprire tutto il costo diciamo dell'impianto che sono 12.656 euro l'altra cosa che ci fa scegliere il programma poi è la modalità di erogazione della detrazione fiscale che come abbiamo detto all'inizio può essere o direttamente scalata in 5 rate annuali sulla persona fisica che ne fa richiesta oppure con uno sconto immediato in fattura e anche ancora una volta con la possibilità di cedere il credito alla quale opzione però in genere dà luogo a ulteriori costi perché cedere il credito può a una banca in effetti la banca potrebbe chiedere eventualmente ulteriori oneri e quindi praticamente ci sono delle spese in più magari da parte della committenza e quindi vanno tenute conto per effettuare poi una valutazione quindi vedremo un po' tutte le varie fasi partendo sicuramente dalla situazione in cui si ipotizzi che il soggetto praticamente che esegue l'intervento effettui una semplice detrazione fiscale su 5 anni per vedere appunto qual è la convenienza dell'applicazione del decreto 110 rispetto per esempio a quello del decreto 50% della detrazione 50% qui abbiamo adesso sul nodo redditività il riepilogo sul quale andare a fare le considerazioni di convenienza in particolar modo qui abbiamo i parametri finanziari payback time van e tir che in questo caso sono tutte e tre parametri pertinenti perché l'intervento viene sostenuto il costo viene sostenuto dalla persona fisica in oggetto quindi nella tabella completa ritroveremo tutti i dati se vogliamo sia energetici ma anche finanziari con l'incentivo fiscale ecco lì abbiamo il campo dell'incentivo fiscale i vari costi che vengono sostenuti non abbiamo ovviamente lo scambio sul posto perché qui non c'è possibilità di avere scambio sul posto l'eventuale risparmio in bollette perché comunque quel contributo ci sarà i flussi di cassa calcolati quindi annualmente e i parametri finanziati tir payback time e il van quindi il valore attualizzato netto a 20 anni quindi in questo caso questi tre parametri possono essere utilizzati per effettuare un confronto se vogliamo di convenienza o meno e a questo livello salviamo quindi questo documento perché questo è il nostro file come dire di Solarius per la valutazione del bonus 110 considerando la detrazione fiscale supponiamo adesso invece sulla base dello stesso progetto quindi fermo restando il progetto dell'impianto fotovoltaico andiamo a fare una valutazione economica semplicemente cambiando l'incentivo fiscale da applicare per esempio applichiamo questa volta un incentivo fiscale come detrazione fiscale 50% ovviamente la durata in questi casi è 10 anni che cosa cambia ovviamente qui adesso lo scambio sul posto lo posso inserire quindi il decreto la detrazione fiscale 50% è cumulabile con lo scambio sul posto quindi lo vado ad applicare e questi pochi passaggi mi danno una nuova valutazione economica di convenienza dove riscontriamo già dei dati un attimino diversi quindi un payback time di 13 anni un van di 2400 euro un tir del 6% quindi già abbiamo avuto altri risultati molto comodo a questo punto torna uno strumento che in queste fasi di valutazione di analisi sicuramente risulta essere comodo che è quello del confronto tra più progetti quindi in questo caso noi abbiamo il progetto in atto che è il bonus 50% vogliamo confrontare i risultati economici con quello fatto poc'anzi quindi relativo alla detrazione 110% e quindi su questo strumento di confronto analizzare immediatamente a colpo d'occhio che andando nella parte in basso il regime di cessione dell'energia qui c'è scampo sul post da questa parte se no il payback time diciamo con il 110% di 5 anni invece con il 50% di 13 anni ma anche il van vedete con il bonus 110 di 3000 euro contro il 2400 quindi sicuramente come dire il super bonus è molto più conveniente rispetto al bonus 50% però ricordiamoci sempre che l'applicazione del super bonus è vincolata dall'intervento abilitante quindi comunque dobbiamo cambiare la macchina quindi poi lì c'è da fare un'ulteriore valutazione quindi diciamo definito che conviene da un punto di vista operativo come dire effettuare l'accesso al super bonus per quanto riguarda la parte fotovoltaica ci si chiede ma tra le tre soluzioni conviene fare poi il decreto diciamo la detazione fiscale lo scambio lo sconto in fattura o la cessione del credito ebbene anche lì ovviamente potremo ragionare con delle ipotesi di confronto quindi per esempio in quest'altro file che adesso andiamo a generare sempre partendo diciamo dallo stesso documento di progetto quindi l'impianto non lo tocchiamo più è fermo lì facciamo solo ragionamenti di tipo economico prevedo lo sconto in fattura quindi prevedendo lo sconto in fattura semplicemente senza far nulla andiamo sulla redditività e andiamo a vedere questo cosa comporta una cosa però ce la dobbiamo aspettare che lo sconto in fattura diciamo non richiede esborsi economici da parte del diciamo del committente che è l'oggetto diciamo di isolarsi per cui il payback time è immediato quindi non sto cacciando soldi praticamente quindi il mio investimento ritorna subito e il tir è zero praticamente in questi casi quindi sia diciamo sconto in fattura che è cessione del credito il parametro finanziario da utilizzare per un confronto di convenienza deve essere solo il van che ha un senso diciamo quindi quant'è il valore attualizzato netto del mio impianto dopo 20 anni e non tanto né il tir né il payback time quindi facciamo anche l'ipotesi su un altro ulteriore file di come dire applicazione della modalità di erogazione con cessione del credito dove ovviamente avremo da specificare come abbiamo già visto prima anche eventualmente un ulteriore costo da sostenere per poter avere questa cessione quindi andiamo a selezionare cessione del credito nel costo andiamo a imputare quello che sarà il costo che ci viene richiesto per esempio dalla banca quindi la banca ci chiederà un 10% quello che è diciamo di costo quindi quello sarà a spese nostre e quindi andiamo a specificare questa ulteriore spesa anche qui andando sulla redditività non ci aspettiamo cose molto diverse dallo sconto in fattura se non praticamente una limatura rispetto al payback time giusto perché abbiamo dovuto mettere mani alla tasca ma anche qui il parametro da utilizzare per un confronto veritiero è sempre e solo il van non il payback time né il tir e quindi a questo punto andiamo a fare il nostro documento di confronto come abbiamo già fatto in precedenza con il documento di 50% quindi questa volta il confronto lo andiamo a fare sulle tre ipotesi quindi la prima era quella relativa alla detrazione fiscale poi abbiamo ecco questa qui la cessione quindi come primo file abbiamo il file sul quale abbiamo applicato la cessione dopo affianchiamo il file sul quale andiamo a prevedere lo sconto in fattura come terza ipotesi dicevamo la cessione del credito ebbene anche qui avremo la possibilità di avere a colpo d'occhio qual è come si comportano i tre impianti su tutte e tre quindi non abbiamo lo scambio sul posto perché siamo in regime di super bonus e notiamo che il van è l'elemento diciamo discriminante se vogliamo tra le tre soluzioni e come potete vedere la soluzione con lo sconto in fattura risulta quella essere quella più conveniente rispetto alle altre due perché abbiamo un van di 3.281 euro più alto rispetto alle altre due soluzioni quindi come potete vedere sicuramente lo strumento del confronto a progetti ci può aiutare anche a fare scelte opportune rispetto a quelle che possono essere le varie ipotesi diciamo messe messe a confronto quindi sicuramente opteremo in questo caso con questi valori per la soluzione con sconto in fattura quindi individuata la formula diciamo da utilizzare il tecnico a questo punto può iniziare a ragionare su quelle che dovranno essere i documenti appunto da produrre per per la pratica in particolar modo abbiamo ovviamente già visto che dalla parte tecnica quindi nel BIM è possibile andare a produrre schemi unifilari piante prospetti eccetera quindi tavole grafiche andiamo quindi invece adesso a come dire aprendo il file appunto dello sconto in fatture che è quello che dobbiamo utilizzare andare a produrre una relazione tecnica di progetto che il programma a questo punto ci andrà a compilare automaticamente sulla base dei dati di progetto che abbiamo introdotto nella fase di progettazione di reali generali e quindi tutto ciò che è venuto fuori dalla progettazione viene riassunto in questa relazione tecnica che andrà a far parte della documentazione di progetto nonché la relazione economica nella quale si andranno a dettagliare appunto i ragionamenti fatti da un punto di vista diciamo dell'input dei dati siano essi energetici ma anche economici e quindi la convenienza con la tabella proprio con il business plan se vogliamo così realizzato riportato anche sull'apposito documento ricordiamo poi che il tecnico diciamo per quanto riguarda la problematica del super bonus deve redigere delle asseverazioni diciamo di concluirà della spesa ebbene sul nodo modulistica possiamo quindi aggiungere eventuali moduli da allegare alla pratica quindi nel campo riservati e qui troviamo oltre all'altra modulistica già presente tipo quella del GSE oppure per la distribuzione eccetera ecco la dichiarazione asseverata del progettista che verrà compilata a questo punto automaticamente come al solito avviene all'interno dei nostri software quindi sarà possibile esportarla stamparla e allegarla quindi alla documentazione inoltre c'è anche la possibilità di compilare la relazione la separazione diciamo per i requisiti requisiti minimi che in effetti dovrebbero far parte sempre diciamo dell'accesso all'utilizzo del super bonus ripeto per il fotovoltaico perché dobbiamo dichiarare che abbiamo avuto il salto di classe e i requisiti minimi e quindi quello che ci può interessare da un punto di vista del rispetto della spesa ovviamente della concurità della spesa il computometrico che abbiamo realizzato lo possiamo quindi andare poi a stampare e quindi allegare eventualmente anche alla documentazione che per certificare appunto le spese che sono o che saranno effettuate per il nostro impianto quindi il computometrico stampabile anch'esso esportabile in in pdf quindi qui adesso abbiamo veramente visto un po' tutto quello che può riguardare quindi la fase di progettazione tecnica dell'impianto nonché lo studio economico e di convenienza economica dello stesso e quindi con questo avrei concluso questa panoramica sul software diciamo sull'Arespev è chiaro che alcuni particolari applicativi possono ancora subire modifiche perché non abbiamo ancora i decreti attuativi né le emanazioni dell'agenzia delle entrate quindi abbiamo già ipotizzato alcune situazioni che però diciamo da qui a qualche giorno potrebbero anche subire dei cambiamenti sostanzialmente a seconda di questi decreti attuativi io vi ringrazio quindi per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi webinar a Grazie a tutti